Nell'arco di un'ora e mezza veicolano circa 62 pullman la mattina lì in transito tra urbani, extraurbani e delle ferrovie sud-est che trasportano circa 3.000 ragazzi da fuori provincia ma anche col trasporto pubblico locale e urbano dal centro alle scuole del Casale. Potete immaginare il problema che si viene a creare ogni mattina lì. Un nuovo parcheggio da ricavare nell'ex collegio Tom Maseo per gli autobus, il principale motivo degli ingorghi per provare a snellire il traffico che puntualmente ogni mattina, praticamente da sempre, paralizza le strade dei quartieri Casale e Materdomini di Brindisi dove insistono quasi tutte le scuole della città. I cittadini sono esasperati, ce ne siamo occupati tante volte nei nostri telegiornali e allora adesso l'amministrazione comunale prova a correre così ai ripari. Noi abbiamo ipotizzato di questo terminal bus di sosta temporanea in quella fascia oraria mettere in sicurezza sicuramente quasi 3.000 ragazzi che devono andare a scuola e decongestionare quel tratto di strada che va da via Benedetto Brin, via Nicola Brandi la rotatoria che scende più giù per via Ciciriello individuando nell'area parcheggio dell'ex Tom Maseo. Questa è via Benedetto Brin ed è una delle arterie che rappresentano l'incubo dei residenti dei rioni Casale e Materdomini in particolare e questa è l'area parcheggio del collegio Tom Maseo che una volta adibita, attrezzata e rivisitata potrebbe rappresentare la soluzione a questo problema del traffico perché diventerebbe un grande parcheggio per tutti i mezzi pesanti e in particolare i pullman. Andiamo in giunta con l'approvazione e dovremo riuscire, ci auguriamo entro l'inizio del prossimo anno scolastico noi ci auguriamo anche prima di avere a disposizione una soluzione definitiva.